L'artista esistenzialista buonasera a tutti, stasera parliamo di tutto ciò che si sta creando attorno ai cori razzisti, insomma alle eventuali squalifiche, la FIGC aveva detto che in occasione di offese epiteti dalle curve e via discorrendo ci deve essere la sospensione delle partite. Secondo me bisogna fare una differenza bella accurata tra quella che uno sfottò, divertimento, fasto, saltelli, gioia e via discorrendo, un epitodo, un'offesa oppure cori razzisti o quant'altro. Io credo che si stia molto enfatizzando tutto, nel senso che se potenzialmente si toglie al tifoso il fischio, lo sfottò o quant'altro è finita. Cioè secondo me dire, non so, tipo siamo di Salerno oppure noi non siamo napoletane o noi non siamo di un certo posto, io non credo che sia poi alla fine denigratorio, offensivo o quant'altro. Credo che tante cose vengano enfatizzate. Se io per esempio dico non sono napoletano ma odio Napoli oppure odio Torino e via discorrendo, allora è denigratorio. Quindi anche sulle parole diamo un pochettino un'occhiadina a ciò che si dice o non si dice. C'è il fatto che dall'osservatorio non ci sia chiarezza, questo secondo me è triste e ci crea tanti problemi, soprattutto il tifoso che vaga il biglietto. Io credo che alla fin fine può portare uno striscione, può fare un inno alla sua squadra, l'importante è che non sia offensiva denigratoria verso il giocatore o altro. E non facciamo attenzione alle differenze fra una curva e l'altra perché poi se non sbaglio domenica scorsa c'era la problematica, se non sbaglio all'interno alla Juve, di aver fatto delle offese sui napoletano chi per esso sia, non ci interessa, sto parlando sui generis. E poi magari per quanto riguarda Napoli, Chievo, offese a Sorrentino e altri e nessuno ha detto niente. Quindi sta storia che si fanno poi le differenze a me non piace, figli e figli assi. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti.